In occasione della giornata mondiale della sclerosi multipla, oggi 27 maggio, è stata organizzata la serata di beneficenza Risate Assicurate, uno spettacolo comico-teatrale dei Wordpress con il patrocinio della provincia di Taranto, il comune di Taranto e AISM, l'associazione italiana sclerosi multipla, prevista per il 5 giugno al Teatro Tata. In collaborazione con il Cusionico Basket, l'associazione Nomedia di Taranto e l'associazione Cabarettiamo di La Terza in provincia di Taranto. per ricordare che in Italia in 54.000 famiglie c'è almeno una persona con sclerosi multipla. La ricerca scientifica è fondamentale per trovare una soluzione, ma i fondi sono insufficienti. Pertanto è importante ricordare e sostenere la ricerca. La riuscita di questo evento testimonia come il connubio tra impegno sociale e arte sia un modello vincente. Questa iniziativa nasce nell'attività messa in programma dell'associazione italiana sclerosi multipla, in quanto oggi, il 27 maggio, insieme a 70 paesi mondiali, celebriamo la giornata dedicata alla sclerosi multipla. Stronger than multiple sclerosis, insieme più forti della sclerosi multipla, perché AISM è vero che è sinonimo di lotta alla sclerosi multipla. Abbiamo sposato da molto tempo come associazione non a scopo di lucro teatrale, siamo un trio comico che da molto tempo operiamo nell'attività della beneficenza. Abbiamo già effettuato, già in loco, degli spettacoli, tipo operazione Smile su nave Cavour della Marina Militare, con il dottor Scopellitti e abbiamo fatto praticamente opera di beneficenza per l'operazione sul labbro leporino. Da molto tempo stavamo già praticamente in contatto con l'AISM perché volevamo effettuare questa solidarietà come gruppo teatrale in loco a Taranto e praticamente in cooperazione con il presidente abbiamo scelto il teatro Tata, che è un fiore e calocchiello di Taranto per poter espletare le nostre manifestazioni in beneficio di questa solidarietà.